buongiorno anche se fuori sta diluviando come non so cosa continuiamo a conoscere un po il mondo delle meteoriti oggi parliamo delle palassiti e delle condriti carbonacee partiamo intanto con quelle più semplici le carbonacee meteoriti carbonacee sono praticamente il materiale più antico conosciuto dall'atto spaziale perché hanno un'età di circa 4 miliardi e mezzo 4 miliardi e 6 di anni alcune si dice ma si stanno aspettando conferme provengono anche da nuclei cometari spenti infatti abbiamo mandato la sonda qualche mese fa per capire questa cosa per vedere che ma di che materiale è fatto e a quanto pare le meteoriti carbonacee del tipo ccm cose così sono appunto del tipo cometario cominciamo proprio con una cm2 famosa che è la marchison questa qui è sotto vediamo se si vede lo stesso in questa meteorite caduta in australia nel 69 è famosa perché appunto sono stati trovati gli amminoacidi al suo interno questo è un frammento di 38 grammi qui si può vedere la parte tagliata dove si vedono delle piccole se si riesce a mettere fuoco le piccole macchie bianche che sono sempre materiale tipo cai molto più piccoli in confronto ad altre carbonacee ormai meteorite abbastanza rara perché in australia intanto è vietato esportare meteoriti senza permessi cose del genere quindi questo materiale sempre più raro poi abbiamo la guiba che è una ben cubinite e come avevo detto le carbonacee di solito non contengono molto metallo mentre invece questa si ne ha parecchio come si vede sono tutte palline ferrose che appunto una cosa abbastanza strana per una carbonacee però le analisi confermano che è di questo tipo ben combinite appunto fa sempre parte delle conditi carbonacee poi abbiamo una caduta recente non tanto beh è la la mos del 2006 che è una co3 5 e qui si vede appunto il nero del carbone che contiene anche questa leggere tracce di metallo e qualche condolulina scura o forse carbonato adesso potrebbe guardare le analisi adesso non me li ricordo poi abbiamo la classica delle classiche che è la liende eccola qua questo è un fine pezzo tagliato e qui si vedono appunto i famosi cai che sono queste macchioline bianche queste qui oltre a le condule classiche rotondeggianti e di vari formati anche con un po di presumo metallo tipo tainite visto che prendono questo colore qua dietro ovviamente questo è un fine pezzo di oltre tre etti dietro c'è la crosta sempre con le crepette di raffreddamento anche questo materiale una volta se ne trovava tanto adesso è sempre più raro perché ovviamente sono tutte in musei collezioni e roba del genere quindi sempre meno se ne trova qua abbiamo il frammento ecco che cade tutto abbiamo il frammento che abbiamo già visto un'altra volta sempre con la crosta e crack la crosta di raffreddamento abbiamo un'altra meteorite carbonacea strana che ancora non si sa cosa può essere perché l'hanno classificata in 3000 modi che è la taffassa 7 anche questa tanto metallo per essere una carbonacea al momento l'hanno classificata come una cr ma anche una condrite primitiva quindi bisogna ancora capire cosa e come proprio sempre strano la carbonacea con tanto metallo poi abbiamo un'altra caduta storica che è la kainzatz che è una cio fine pezzo con la crosta dietro caduta russa poi abbiamo alcune carbonacee del tipo cv che sono tipo le alliende in pratica che ho trovato io nei vari arrivi dal marocco di materiale anche qui si vedono alcuni cai e le condrule notare che qui la matrice molto più marroncina in confronto al nero delle dell'alliende penso dipenda sempre da da dove vengano recuperate tipo deserti cose del genere che cucinano la meteorite in pratica ma anche lì è tutto da vedere qui abbiamo un'altra qui si può vedere un enorme cai io sti cellulari li odio e anche su questa fetta qui si vede un enorme cai insieme a vale condule multicolore sono sempre recuperata io anche qui in altro cai che si vede sulla superficie poi abbiamo la daralgani 412 che è una ck insieme a tante microcondule nere zero metallo sono le prime recuperate negli anni fine anni 90 di questo tipo nel deserto libico poi abbiamo una delle ultime cm recuperate sempre in marocco questa è la nva 13 371 sempre con crosta nera diffusione e la l actane 0 19 frammentino sempre qui crack sulla crosta un po orientata è sempre una cm cioè tipo la marchison in pratica in italia abbiamo due carbonace che praticamente sono i capostipiti che hanno dato il nome appunto alle meteoriti alla classificazione delle meteoriti carbonacee questa è la vigarano che dà il nome al gruppo cv ci sono due un fine pezzo e una fetta ecco il vetro non fa vedere bene il vigarano è molto riconoscibile nelle condule e la matrice in confronto alle alliende o altre meteoriti ecco le condule sono tanto fitte proprio vicine non distanziate e poi abbiamo la renazzo che qui ho una fettina proprio microscopica perché è talmente rara che è impossibile trovarla che ha dato il nome al gruppo delle cr quindi abbiamo due meteoriti famose noi in italia per questo tipo di conditi ricarbonacee questo è tutto